E' immortalato dalle telecamere di videomonitoraggio il tremendo impatto della monovolume nera che si è schiantata contro un'auto articolato fermo al chilometro 360 in corsia sud della A1 nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino. Uno schianto terribile che ha costato la vita ad una bambina di appena 8 mesi, un'altra di 10 anni e una coppia di anziani, padre e madre del conducente. L'uomo insieme alla sua famiglia era partito dalla Romania dove risiede nell'auto, viaggiavano 8 persone. Nelle immagini, nonostante un'ultima sterzata, la monovolume si schianta contro il camion, alcuni testimoni oculari lo avevano visto sbandare nei chilometri precedenti. Dopo l'impatto lo scontro con un'altra auto che stava sopraggiungendo, in tutto 7 i feriti di cui 2 minori, una bimba di 8 mesi, gemella della piccola deceduta e un bambino di 13. Le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Battifolle e il personale di autostrade, il PM Roberto Rossi, ha aperto un fascicolo. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai test tossicologici, risultati tutti negativi. Per lui si profila l'accusa di omicidio stradale plurimo.